... il gatto numero 32, il gatto numero 42, il gatto numero 42, i gatti che presentano una colorazione del corso scuro e color focato, sono grigio e quindi per lui diventa blu. Qui invece abbiamo terziano, rosso, non è solo rosso questo gatto, vedete presenta tutta la seconda delle percentuali di bianco presente, noi diciamo che quel gatto è Vanna, il bianco è tanto, Arlecchino comincia a essere 1, Barì 1, Gian G1, Alessandro 1, Luigi 1, Lì 1, 1. All'unanimità, il gatto vincitore, è l'esotico nero, il gatto numero 1, che rivedremo più tardi per il best of best. Questiani di lunga data, perché sempre giovani ma non lo sai, ci vuoi raccontare qualcosa di questi anni? Carabin. Particolari attenzioni per la cura del pelo, loro che hanno questo pelo così, stiano, rosso, piccolore. 34, 34, 34, 34, all'unanimità, il gatto vincitore, il gatto numero 34. 34, 34, 34, 34, 34. Se non dai il parolo ti lascio il mio, eh? Sono più o meno 6 bestiati, ve lo vediamo più assolutamente. È il gatto di... ...dicolo, dicendo nome che proviene da... ...dicolo, è di spiare più forte, con la cuota, con le manche. c'era il gatto nuovo 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 il gatto nuovo il gatto nuovo il gatto nuovo